La decisione da parte di vari stati europei di bloccare la vaccinazione con AstraZeneca mostra che in un certo senso, anche in quello negativo, l'Europa c'è. La Francia ha giustificato la decisione col fatto che, siccome l'ha fatto la Germania, sarebbe stato brutto non farlo anche loro perché se poi i tedeschi avevano ragione le autorità francesi sarebbero trovate in difficoltà con l'opinione pubblica. Ciò che colpisce è che invece altri stati come Stati Uniti, Inghilterra e altri vadano avanti con AstraZeneca. Perché? Perché se anche fosse vero che il vaccino AstraZeneca abbia come effetto collaterale di produrre alcune morti ogni tot milioni di vaccinazioni, questa percentuale è comunque enormemente più bassa dell'incidenza della mortalità del Covid. Cioè la realtà è che il principio di precauzione in questo caso sembra essere stato applicato malissimo perché da un lato non è provato che quelle morti siano state legate al vaccino perché si tratta di un numero statisticamente talmente basso che equivale a quello delle morti per quel tipo di patologie nella popolazione normale, quindi indipendentemente dal vaccino. Dall'altro il fatto che la mortalità del Covid è enormemente più alta. Però il problema è la comunicazione. Oggi 350 morti di Covid al giorno non fanno più notizia. Fa molta più notizia quel forse morto per il vaccino. Ecco dunque che tutti i media si buttano sul potenziale morto del vaccino scatenando un'ondata di panico invece di scatenare il panico per i 350 giorni reali ogni giorno in Italia legati al Covid. Ecco, il problema è vaccinare. Tutti i vaccini sappiamo dai dati scientifici pubblicati disponibili che sono sicuri, incluso AstraZeneca, che pure ha degli effetti collaterali leggermente peggiori rispetto agli altri, ma nulla a che vedere con la mortalità del Covid. Stiamo quindi discutendo di qualcosa che è stato montato mediaticamente, che ha prodotto una reazione isterica da parte delle istituzioni, perché è irragionevole che l'AIFA faccia un comunicato un giorno per dire che l'AstraZeneca è sicuro a luce delle dati scientifici e il giorno dopo smentisca se stesso e blocchi precauzionalmente le vaccinazioni, creando un danno di lungo periodo al processo di vaccinazione in Italia. Ecco, sono rischi, sono pericoli che non possiamo permetterci nel mezzo di una pandemia, in cui in Italia la curva continua a non flettere, in cui continuiamo ad avere casi, morti e terapie intensive in difficoltà.